ciao raga bentornati sul mio canale youtube oggi dopo aver visto le top ruolo per ruolo andiamo invece ad analizzare quelli che secondo me sono i migliori super sub al momento su fiore 23 mi sono tenuto chiaramente sul range di crediti non esagerato se non sbaglio la carta più costosa dovrebbe andare più o meno sui 45 mila crediti andiamo ad analizzare reparto per reparto quindi difesa centrocampo poi chiaramente lato offensivo da esterni ad attaccanti mettetevi comodi e andiamo subito a vedere il primo giocatore il primo super sub che vi consiglio è alfonsino davis un giocatore che quest'anno si utilizza poco da titolare per via dei link che insomma non si vanno top a sfruttare con la bundesliga e anche canadese quindi negli undici iniziali fa fatica però questa carta qua è tremendamente sottovalutata per due motivi innanzitutto costa 16 mila crediti quindi una sciocchezza è un terzino di un metro e 85 è molto abile palla al piede perché ha un bel body type ha 4 di skill e 4 di piede debole quindi anche abbastanza tecnico è un fulmine ovviamente quando c'è da correre ha degli ottimi passaggi corti quindi quando si tratta di dover servire i giocatori in fase di ripartenza lo fa bene vi dicevo dell'agilità con 86 84 di equilibrio pecca un po in forza e aggressività però immaginatevi lo scenario partita che ovviamente si sta mettendo in un determinato modo sia bene che male nel primo caso può entrare per dare filo da torcere ai super sub dell'avversario nel secondo caso essendo un terzino di spinta molto tecnico potete anche metterlo come terzino offensivo a tutto campo permettendo di arrivare a dare una mano in zona d'attacco quindi lui veramente top l'ho utilizzato anche io nella mia squadra prima di trovare un altro giocatore che però è fuori budget sono stato fortunato a trovarlo uno scambiabile il buon rafigna della champions che utilizzo terzino molto offensivo però lui sicuramente ve lo straconsiglio da super sub al secondo posto un altro giocatore che magari qualcuno di voi ci avrà anche titolare ma che costa a dulire è ronald arauco un metro e 92 ne abbiamo parlato è uno dei giocatori secondo me migliori per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale perché ha un body type immenso è un po il kimbenpe dell'anno scorso anche a livello di baggataggine perché questo boh non si sa che cosa c'è a rega pare che c'ha laurea di zeus non lo superi non lo salti in nessun modo perché con il fatto che abbia lenghti un lenghti nativo quindi non ha bisogno di stili di intesa può subentrare anche dalla panchina e già lo stile di corsa rotto infatti ha 84 di velocità scatto che appunto ne approfitta lo sfrutta ottima dare attività con l'l2 81 ottime le stats difensive 86 di forza e 84 di aggressività quindi anche in questo caso magari viene spulso un difensore centrale dovete andare a mettere un rimpiazzo alla panchina sto arauco fa assolutamente al caso vostro se vogliamo salire un po più di budget e questo è il giocatore un po più costoso se non sbaglio che vi ho indicato all'interno di questo video andiamo su giocomets che anche in questo caso parliamo di un lenghti nativo visto che la differenza tra forza e aggressività in questo caso è 21 molto rapido un metro 88 anche lui bello possente in game quello che fa meglio rispetto ad arauco è l'uscita a centrocampo se si vuole andare a pressare un po più alto quindi velocità scatto 88 che serve proprio in tal senso lui magari me lo vado a immaginare super sub se vi si viene a creare un buco in difesa o se volete creare un modulo a 3 a partita in corso lui lo potete sfruttare come difensore centrale un po più aggressivo che mi permette di recuperare palla e far partire il contropiede quindi gomez anche qua un ottimo super sub passiamo invece a quella che è la zona mediana del campo e come giocatore io vi vado a indicare seco fofana anche in questo caso un giocatore che l'anno scorso ha stradominato con tutte le carte speciali che sono usciti quest'anno invece è un po sottovalutato un metro 85 alto alto nel momento in cui sto registrando il video non è ancora uscita la versione out of position che ovviamente non intaccherà il prezzo di questa qui 4 skill 4 piede debole quindi anche abbastanza tecnico discretamente veloce anche per lui abbiamo un lenght nativo come stile di corsa ottimi passaggi di questo fofana discreto il parametro di agilità per un mediano ottima la reattività 90 di forze 82 di aggressività questo come diga al centrocampo qualora appunto servono forze fresche dalla panchina per due lire perché ve lo portate a casa praticamente al prezzo di scarto 10 11 mila crediti secondo me fa al caso vostro passando invece alla zona offensiva del campo un giocatore che io vi vado a consigliare è lorenzo insigne sbc rule breaker perché parliamo di un calciatore di un metro e sessantatre quattro skill quattro piede debole è uno di quei pochi giocatori la cui velocità si sente realmente in game è uno di quei pochi che va via velocemente realmente almeno quindi qual è la questione visto che giocatori con queste caratteristiche ce ne sono pochi perché lo sapete bene è pieno di giocatorini con velocità altissima con un sacco di accelerazione un sacco di velocità scatto però poi per un motivo per un altro in game questi fanno fedecchia lui invece è uno di quelli che funziona anche la sua sbc non costa tantissimo anzi con qualche carta che sicuramente avete nel club ve lo portate a casa a dulire anche lui ottimi passaggi ottimo il tiro agilissimo ottimo il controllo palla e la cosa buona di questo insigne è che c'ha due cose tiro di precisione e tiro d'esterno e sapete bene quanto queste due componenti quest'anno siano fondamentali soprattutto il tiro d'esterno quindi immaginatevi un insigne che vi entra a piottare la fascia a dar fastidio ai giocatori dell'avversario che sono stanchi lui corre perché uno dei pochi che corre e in più c'è anche la possibilità di minacciare con i tiri da fuori quindi ottimo insigne rapporto qualità prezzo altro giocatore che è diventato validissimo grazie al passaggio turno della fiorentina e con e perché anche qua per 25 mila crediti vi portate a casa un giocatore che è velocissimo ha 4 skill e 3 di piede debole è uno di quei pochi che effettivamente va in game perché il body type è quello giusto la forza è 62 non lo appesantisce ha un buon passaggio corto un tiro non proprio fenomenale però lui deve entrare e deve volare 99 di agilità 89 di equilibrio pecca leggermente in reattività vi dico poi da super sub perché quel 74 di aggressività e quel 82 di resistenza magari 90 minuti non ce la fa manco a tenerli quindi immaginate 65esimo l'avversario si ritrova la gazzella francese sulla fascia lì a destra o a sinistra insomma dove lo mettete e questo qua mette in crisi facile tutti i giocatori dell'avversario che stanno con le bombole e poi anche lui c'è un'altra cosa da non sottovalutare che tiro da esterno che sapete vi ripeto quanto sia importante passiamo invece agli attaccanti ovviamente come posso non menzionare luis muriel versione if che come vedete io utilizzo 4 skill 4 piede debole costa più o meno sui 16 mila anche per lui è il discorso relativo alla velocità anche se meno a quelli che vi ho menzionato in precedenza ottimo tiro buon passaggio corto è molto agile è uno di quei pochi giocatori la cui agilità si sente davvero di fatti anche 75 di forza che non lo appesantisce troppo e lui lo potete mettere tranquillamente in un attacco a due io vi consiglio se lo volete inserire a gara in corso mentre se volete inserire un attaccante che vi può ottenere da solo l'attacco il mio consiglio ricade su alexander sorlott 3 skill 4 piede debole un metro e 94 un lenghti nativo una specie di holland praticamente del della panchina velocissimo per quanto riguarda la velocità scatto in campo aperto questo non lo recupera nessuno 92 di potenza tiro pecca leggermente in finalizzazione ma non si può volere tutto dalla vita 96 di forza ovviamente 62 di agilità si sente tutto però ripeto questo va giocato a correre negli spazi per mettere in crisi l'avversario poi davanti la porta se siete bravi con i time ed sopperite un po' con la finalizzazione 82 e questo le porte le butta a terra adesso voglio chiudere il video con quelle che secondo me sono due chicche che magari alcuni di voi non avevano minimamente considerato il primo giocatore è isaq touret io vi prendo questa versione perché al momento in cui registro non è ancora uscito quello out of position ma sarà uscita la carta sua speciale da atti ma indipendentemente noi lo utilizziamo da sub questo è una hit perché è un cristiano di 2 metri e 04 al quale hanno aumentato tantissimo la velocità tiri passaggi eccetera ma noi perché lo andiamo a mettere in panchino lo andiamo a utilizzare scenario stiamo vincendo l'avversario negli ultimi 10 minuti ci alza il pressing costante cosa faccio panico no faccio entrare come l'anno scorso si metteva uigors se vi ricorderete soprattutto nei tornei competitivi isaq touret che è un giocatore anche abbastanza tecnico per quanto riguarda la versione sua bustata ed è un cristo di 2 metri e 04 quindi vado a ricercare sistematicamente la sponda su questo isaq touret che può essere giocato anche esterno proprio per sfruttare i lanci esterni e poi la sponda per la punta o anche punta per tenere palla e far salire la squadra in quella situazione lì quindi lancione lungo sulla punta isaq touret spizzata per uno dei due esterni e cerchiamo di tenerla lontana quando l'avversario ci viene a pressare alto quindi osho non credo che costerà tantissimo bella hit dalla panchina così come un'altra hit pazzesca è sto gerson rodriguez e voi direte maribè ma ti sei impazzito 4 skill 2 piede debole regà allora il piede debole non si sente tantissimo ok premesso che chiaramente col sinistro è bene che non lo facciate tirare troppo questo è un metri 85 ma è un cavallo pazzo tralasciando il body type capelli in game che è di una quote sum allucinante ma è un lengthy nativo e vola why you questo in campo aperto non lo recupera nessuno anche van dyke anche lucio anche ramos tant'è vero che anche a livello competitivo nelle rivals a punti molto alti promettono sto cinghialotto che costa 9600 crediti a scarto perché è una versione if ed è top e incredibilmente davanti la porta quando si tratta di finalizzare finalizza anche discretamente bene quindi osho sto gerson rodriguez io lo sto utilizzando sul mio account principale va sicuro che è sbalorditivo raga fatemi sapere nei commenti se utilizzavate già qualcuno di questi super sub oppure quali super sub utilizzate voi vi ricordo in descrizione il link della piattaforma viola dove sono live ogni giorno io vi auguro una buona giornata sono nari berowski ciao 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 ciao